ciao a tutti questa è la seconda puntata della mia serie di lezioni riguardo gris pencil gris pencil lo strumento per il disegno tradizionale diciamo all'interno di blender scopriremo che è molto utile poter fare del disegno tradizionale all'interno di un programma che in realtà è di grafica tridimensionale tuttavia in questa prima parte cominceremo semplicemente a prendere dimestichezza con gli strumenti utilizzandolo come fosse un disegno un normale software di disegno bidimensionale come vi ho già detto basta selezionare 2d animation in questa finestra di avvio e blender si aprirà in una modalità di disegno bidimensionale nella quale questa finestra bianca è quella in cui possiamo fin da subito cliccando con la nostra penna disegnare vi invito tuttavia ad andare a riaprire il documento un documento già pronto per esempio quello che potreste aver fatto nella mia lezione precedente nella mia lezione precedente abbiamo utilizzato gli strumenti base del principale tool che si chiama draw e abbiamo provato tutti quanti gli strumenti e abbiamo disegnato qualcosa solo in bianco e nero abbiamo anche esportato un'immagine salvata tuttavia non abbiamo ancora visto come modificare le dimensioni dell'immagine salvata abbiamo visto che possiamo zoomare molto avanti spostarci con questi due strumenti vi invito anche fin da subito ad imparare gli altri modi per spostarsi vale a dire maiuscolo tasto centrale è come pan quindi come questa manina qua premete maiuscolo usate il tasto centrale e la finestra si sposterà in senso orizzontale e verticale un po come lo spazio per chi ha usato photoshop mentre invece control e tasto centrale ci permette di zoomare nel posto dove ho cliccato quindi se mi trovo qua in alto e tiro su verso l'alto avrò poco posto se invece mi metto qua in basso e tiro verso l'alto più posto per spostarmi comunque impariamo shift tasto centrale control tasto centrale attenzione se premete il tasto centrale basta e siccome capiterà ve lo dico quello che succede è questo che all'improvviso ci muoviamo in uno spazio tridimensionale e scopriamo che tutto quello che abbiamo disegnato in realtà è in un mondo 3d se l'avete fatto per sbaglio e avete preso paura premete il tasto 0 sul tastierino numerico e torniamo alla visuale da telecamera quindi ricordatevi tasto centrale e basta guardiamo il nostro disegno da altre posizioni quindi 0 sul tastierino numerico e torniamo qui maiuscolo e tasto centrale contro le tasto centrale valgono anche quando siete in questa modalità contro il tasto centrale vado avanti e indietro maiuscolo tasto centrale mi muovo a destra e sinistra ricordate lo 0 e torno qui ora come faccio se non voglio un'immagine rettangolare ma la voglio quadrata ad esempio le caratteristiche dell'immagine esportata le trovate qui in questo con questi concini a forma di macchina fotografica scopriamo che ci sono tutte le impostazioni di rendering in questo momento possiamo tranquillamente lasciarle come sono e spostarci invece su questi concini a forma di stampante e qui ci sono la risoluzione dell'immagine come vi ho già mostrato blender è diciamo vettoriale per cui l'immagine di per sé non ha una dimensione finché non la esportiamo quindi se io qui cambio le dimensioni da 1920 per 1080 e faccio per esempio 1000 per 1000 ecco che all'improvviso zoom indietro con contro il tasto centrale la mia area è quadrata la mia area è quadrata e si è allargata se faccio 500 per 500 rimane quadrata uguale allora come funziona questa cosa ovviamente se faccio 2000 per 500 viene rettangolare però in qualche modo io potrei chiedermi voglio un'immagine 1000 per 1000 però voglio che il mio volto sia all'interno dell'immagine non lo voglio così piccolo perché se adesso premiamo f12 che è il tasto per ottenere l'immagine vera e propria da salvare vedete è piccolino allora come faccio ovviamente potrei sempre scrivere un numero molto grande qui 2000 per 2000 esportare e poi ritagliare però diciamo che è meglio capire fin da subito che questo rettangolo col quale stiamo salvando la nostra immagine se premiamo il tasto centrale ci spostiamo nel mondo tridimensionale e con control indietro vengo indietro scopro che in realtà è questo infatti è questo questa forma qui se vado a cambiarla 2000 per 1000 vedete che cambia questa finestra questa è la mia telecamera nella scena la vedete qui camera stroke nel nostro disegno camera e la telecamera attraverso il quale lo guardo quindi quando io premo 0 non faccio nient'altro che guardare il mio disegno attraverso la telecamera siccome la telecamera si trova qui a questa distanza dal disegno se io gli cambio le proporzioni comunque la mia telecamera rimarrà alla stessa distanza dal disegno se la rimetto a 2000 per 2000 premo 0 quello che voglio fare io nel mondo tridimensionale è avvicinare la mia telecamera al disegno c'è un modo molto semplice per farlo senza dover per forza pensare a spostare telecamere premiamo di nuovo lo zero per entrare nella visualizzazione della telecamera e ora con questo piccolo triangolino qui possiamo aprire un intero menu questi menu si aprono con il tasto n di napoli sulla tastiera quindi con n posso aprire e chiudere questo menu questo menu è in varie sezioni una in particolare si chiama view questa sezione view è quella della telecamera attraverso cui sto guardando adesso in particolare il tasto che ci interessa è questo lock camera to view se io lo premo adesso i miei cambiamenti alla visuale verranno riflessi nei movimenti della telecamera vale a dire che se premo control tasto centrale e zoom finalmente sto muovendo la telecamera in avanti e se premo shift tasto centrale e mi sposto sto spostando la telecamera come vedete è apparsa la griglia spostando la telecamera perché sto andando in su o in giù rispetto alla posizione iniziale quindi io vi invito a non spostarla ma premendo lock camera to view a limitarvi a zoomare quindi un po vedrei poi in realtà nelle prossime lezioni impareremo a controllare perfettamente tutto quanto però per ora se non avete dimestichezza limitatevi a lock camera to view e control tasto centrale per zoomare ricordatevi anche di togliere lock camera to view se volete che con control tasto centrale io faccia lo zoom senza modificare la mia immagine quando ho finito posso premere la n e rimuovere il menu se mi dà fastidio avendo fatto questo quando premo adesso f12 e ottengo il rendering della mia immagine è diverso appunto e avrà le caratteristiche indicate qua mille per mille pixel posso sempre andare a salvarlo e quindi invece che volto lo posso adesso lo chiamo volto 2 salva immagine se qui faccio 2000 per 2000 pixel premo f12 di nuovo ci mette un attimo di più perché è più grande immagine salva volto 3 salva immagine andiamo adesso a vedere nella nostra cartella cosa è successo sono qui nella mia cartella posso vedere che volto 2 volto 3 hanno due immagini due dimensioni molto diverse volto 2 se zoom con con il visualizzatore di windows e mi avvicino vedo che ha una certa qualità volto 3 che ho esportato a una qualità più alta mi accorgo essere meno sgranato fateci caso guardiamo l'occhio vedete è molto meno sgranato anche guardando le linee dei cappelli quindi è un programma vettoriale nel momento in cui esporto sono io qui a decidere quanto grande fare l'immagine posso aver notato che è un po diverso che ci sia una leggera differenza nell'esportazione perché è dovuta a queste impostazioni qui di colore che possono essere cambiate per esempio se io adesso faccio esatto se voi cambiate questo display device da srgb a none e premete f12 adesso l'esportazione è decisamente il rendering è decisamente più simile a quello che vedete a schermo facciamo una verifica lo salvo come volto 4 posso anche cambiare se non mi piace il png posso quassù scegliere anche fin da subito jpeg come formato di salvo e la qualità faccio salva di questo jpeg torno alla mia cartella apro volto 4 apro volto 3 e mi rendo conto che questo volto 3 era più chiaro rispetto a quello che vedevo a schermo mentre questo qua gli somiglia molto di più per cui se volete davvero che il rendering finale l'immagine finale sia esattamente uguale a quello che vedete che di solito è quello che vogliamo ricordatevi di premere la macchina fotografica di venire qua giù sotto color management e di scegliere display device none in questo modo il risultato sarà esattamente uguale volendo si può anche andare a cambiare alcune impostazioni qui per il basso contrasto alto contrasto provate un pochettino a giocarci già da qui si può cambiare leggermente l'aspetto dell'immagine insomma comunque anche potete farla molto più chiara o molto più scura un'altra cosa che si può aver notato appunto era che se riapriamo questi documenti lo sfondo non è perfettamente bianco lo vedete qui che è leggermente grigio potete anche alzare l'esposizione a che ne so 2 e in questo modo l'immagine si brucia molto e questo è uno dei casi nei quali non ve ne accorgete finché non premete quest'altro tasto qua in fondo comunque alcune di queste impostazioni appaiono solo nel momento in cui premete f12 e vedete l'immagine finale credo di aver sì esatto il valore originale di exposure era 0 e non 1 come avevo messo exposure significa esposizione più lo abbasso più l'immagine è scura più lo alzo più alta però come vedete non succede niente nel vostro viewport fino a quando non premete f12 per visualizzarlo a tutto schermo ora abbiamo visto lo strumento principale che era pen vale la pena un attimo semplicemente esplorare il successivo strumento che abbiamo solo guardato la volta scorsa che è gomma allora appena lo premete la gomma appare eraser soft vale a dire una gomma morbida che avevamo già utilizzato la volta scorsa e che vedete cancella in maniera soffice quello che c'è a schermo non è soprattutto sui segni tracciati molto velocemente potreste notare questo effetto puntinato questi strani tagli perché in realtà ognuno dei segni all'interno di blender è costituito da punti la gomma per cancellare cancella alcuni di questi punti quindi se i punti sono pochi in un segno tracciato molto rapidamente i punti sono minori di quelli di un segno tracciato lentamente c'è distanza tra i punti e ve ne accorgete da questo posso in ogni caso con la F come al solito o con Radius qua sopra andare a modificare la dimensione della gomma e questo è solo un tipo di gomma anche qui se sto leggero con la mano cambia la dimensione del raggio e la forza quindi vedete anche qua abbiamo forza gli altri strumenti della gomma come li abbiamo trovati per lo strumento draw sono qui c'è una gomma morbida c'è una gomma punto vale a dire che elimina i singoli punti della linea e li elimina del tutto quindi non in maniera morbida ma proprio dispezza la linea nel punto dove cliccate e addirittura ricrea come in questo caso vedete queste linee se io cancello questi punti si ricrea la forma tondeggiante alla fine del segno Eraser point Eraser hard è simile a quello soft solo che è più forte e quindi cancella il segno molto più rapidamente come una gomma appunto più dura quello che vi descrivo per ultimo è Eraser straw che cancella l'intero segno quindi una volta che lo cliccate viene cancellato per intero il segno tracciato come vedete sta rimuovendo interi segni se il segno è corto eliminerà un segno corto se come in questo caso adesso annullo se ci riprovo clicco cancella tutto quanto perché io questa zona l'ho disegnata con un unico segno e quindi cliccandoci sopra con Eraser straw o anche questo elimino l'intera area quindi ricordatevi che questa gomma cancella l'intero segno tracciato quindi adesso abbiamo a disposizione tutti gli strumenti abbiamo a disposizione la gomma possiamo tranquillamente disegnare l'ultimissima cosa che possiamo guardare ora è il riempimento il riempimento non fa altro che riempire una certa zona del colore in questione quindi se io con la penna disegno un'area chiusa con il secchiello premo e quest'area viene riempita con l'attuale materiale che ho a disposizione siccome il materiale che ho a disposizione è una linea nera viene riempita con una linea nera ottenendo questo strano e particolare effetto di rendere il bordo un bordo netto preciso e nero quindi lo riempie di bianco col bordo nero anzi in realtà non lo riempie veramente di bianco nel senso che se ho qualcosa già dentro vedete si è fermato qui perché ha incontrato quest'altra riga se premo qua sopra riempie anche l'altra parte vedremo nella prossima lezione bene come mai lo strumento riempie si comporta in questo modo perché andremo a vedere i materiali vale a dire potremo finalmente utilizzare i colori e non dipingere esclusivamente col nero quindi nel frattempo prendete mano con la gomma prendete mano con le caratteristiche del rendering per appunto decidere quanto grande volete il risultato finale e ricordatevi appunto f12 per ottenere un'immagine che potete salvare con image save as o save e notate tra l'altro che potete usare la scorciatoia da tastiera alt s alla prossima lezione con i materiali i colori e alcuni degli altri strumenti grazie e alla prossima